Ciao a tutti, belli tezzico e bentornati sul canale didattico di Acuti Spiaco nella sezione della matematica. In questo video vedremo che cos'è la funzione quadratica, come si disegna e qual è la sua relazione con l'equazione di secondo grado. Per affrontare le lezioni dovrai soltanto ricordarti come si risolvono le equazioni di secondo grado, che è una cosa che abbiamo visto fino adesso, quindi dovrebbe essere fresca. Vediamo che capisci qualcosa, va? Cominciamo con la nostra lezione in cui parleremo di funzione quadratica e soprattutto vedremo qual è la relazione di questa funzione con la nostra equazione di secondo grado. Quindi se vi state facendo la domanda, ma perché sta roba sta nell'equazione di secondo grado? Emo lo vediamo subito. Per capire di che cosa stiamo parlando partiamo dalla nostra equazione di secondo grado, in questo caso completa, ma questo discorso può essere fatta anche per equazioni nella forma incompleta. Per capire la relazione che c'è con la funzione quadratica, noi prendiamo questa equazione qua e ce la trasformiamo appunto in una funzione. Come facciamo? Togliamo questo uguale a zero e davanti ci mettiamo y uguale. Questa qui è diventata quindi una funzione. Allora ragazzi, lo so che non sapete o non vi ricordate che cos'è una funzione, però è una cosa che dovete sapere, perché tanto a brevissimo la matematica si riempirà di funzioni. Che cos'è una funzione? È un qualche cosa che associa dei valori della x a dei valori della y. Cioè, scelti dei valori della x, che possono essere scelti arbitrariamente, io devo ottenere in risposta uno ed un solo valore della y. Che vuol dire questa cosa? Che se io vado a scegliere dei valori della x, per esempio 0, 1 e meno 2, totalmente in maniera casuale, devo ottenere in risposta uno ed un solo valore della y. Ovvero, andando a sostituire questo numero e gli altri lì dentro, devo ottenere un solo valore per la y. In questo caso 3, 6 e 3. Non vi preoccupate se li ho calcolati molto velocemente, a breve vi farò vedere come ho fatto, ma vi ho già spiegato che li ho sostituiti lì dentro. Se per qualche valore di questa x io non ottengo un valore solo della y, ma ne ottengo più di uno, allora quella non è una funzione. Nel nostro caso, però, quando abbiamo a che fare con una funzione quadratica, cioè una funzione che presenta un termine di secondo grado, allora abbiamo a che fare sempre, sempre con una funzione che ha la forma di una parabola. Per chi non lo sapesse, che cos'è la parabola? È una funzione che può essere disegnata, per esempio, in questo modo, oppure, che ne so, in quest'altro modo, sia la concavità rivolta verso il basso. Quali sono le caratteristiche della nostra parabola? Lei ha un'asse di simmetria, che è la retta verticale che divide a metà la parabola, e poi, soprattutto, a questo punto qua, che si chiama vertice. Il vertice rappresenta il punto più alto, in questo caso, e più basso, in questo caso. Per poter fare il disegno della parabola, noi dobbiamo conoscere assolutamente le coordinate di questo vertice, altrimenti non sappiamo come collocare bene la parabola nel piano cartesiano. Andiamo quindi a vedere come fare con precisione il disegno della parabola. Dopodiché, vedremo che cos'è uno zero e quando la funzione è positiva e negativa. Disegniamoci, quindi, la funzione y uguale x alla seconda meno 4x. Vedete, in questo caso, c fa zero. Non importa, non dobbiamo avere necessariamente tutte e tre i termini per andare a disegnare la nostra parabola. La possiamo disegnare con un termine, con due termini o con tutte e tre. Vediamo quali sono i passi che devo fare per disegnare velocemente e con precisione la nostra parabola. La primissima cosa da fare è trovare il vertice della parabola, perché se non trovo quello, la parabola non viene disegnata tanto bene. Quali saranno le coordinate del vertice? Non lo sapete, ve lo dico io. Il vertice si trova meno b fratto 2a e meno delta fratto 4a. Da dove vengono queste due cose non vi state a preoccupare, perché lo saprete l'anno prossimo quando farete la parabola in terzo. Cosa sono però a, b e delta? E sono esattamente le cose che abbiamo visto nella nostra equazione di secondo grado. Quindi a sarà il termine davanti a x quadro, meno 4 sarà il termine davanti alla x e c in questo caso non c'è, ma sarà il termine noto. Cosa devo fare quindi adesso? Mi scrivo a che è 1, b che è meno 4, c che fa 0 e mi vado a calcolare anche il delta, che io so essere b quadro meno 4a per c. Quindi quanto mi viene? Mi viene 16 meno 0, perché c fa 0, quindi 4a per c fa 0. A questo punto mi vado a calcolare le coordinate del vertice. Come faccio? La coordinata x sarà per l'appunto meno meno 4 fratto 2a, quindi 2, ovvero 2. Mentre la coordinata y sarà meno 16, che è il nostro delta, fratto 4a, quindi 4. Quindi mi viene meno 4. Il nostro vertice ha quindi coordinate 2 meno 4 e io le prendo e le vado a piazzare subito sul piano cartesiano. E quindi metto il vertice qui. Eccolo qui. La seconda cosa da fare, per semplicità, è tracciare l'asse di simmetria. Questa cosa è banale, perché mi basta prendere il vertice e tracciare una retta verticale in corrispondenza di quel punto. Me la faccio anche tratteggiata, perché in realtà quella mi indica soltanto la simmetria della parabola rispetto ad essa, non è una vera retta che mi serve per il disegno. A questo punto che cosa faccio? Prendo dei punti, che vuol dire che faccio una tabellina esattamente come ho sempre fatto, per esempio, per la retta. Vado a scegliere dei valori della x e in corrispondenza di quei valori mi vado a calcolare la y. Ricordo che devo andargli a mettere qui dentro. Quindi se, per esempio, scelgo 0, quando li vado a mettere al posto della x, la y mi viene 0. Scelgo, per esempio, il valore 1. Quando metto 1, mi viene 1 meno 4, che fa meno 3. E poi, per esempio, mi scelgo il valore 4. Quando prendo il valore 4, che cosa ottengo? 4 alla seconda 16, meno 4 per 4, 16, 0. Andiamo a mettere questi punti sul piano cartesiano. Il primo punto è 0, 0. Ora, siccome la parabola è simmetrica, io non devo andare a calcolarmi necessariamente tanti punti, perché quando mi calcolo un punto in realtà ne ho due. Avendo calcolato questo punto, io mi andrò a prendere anche il simmetrico di quel punto rispetto alla mia retta verticale. Quindi se questo punto dista due quadretti dall'asse di simmetria, quest'altro da questa parte deve distare due quadretti dall'asse di simmetria. Vado a prendere poi il punto 1 meno 3, che sarà questo. Per lo stesso motivo posso prendere anche questo. E per finire vado a prendere il punto 4, 0, che in realtà, vedete, ho già scelto, che è questo qua che mi viene quando prendo 0, 0. Se i punti non mi dovessero bastare, ne prendo un altro. Per esempio, se prendo il valore 5, ottengo 25 meno 20, che fa 4. Quindi vado a mettere il punto 5, 4, che sarà questo. Siccome questo punto dista tre quadretti dall'asse di simmetria, vado a prendere quello che ne dista tre da quest'altra. E a questo punto unisco i punti. Ecco quindi disegnata la nostra parabola. Se seguite questi tre passi che vi ho spiegato, vedrete che sarà abbastanza facile. Fate un po' di esercizi, con la pratica diventerete bravissimi. Facciamo adesso un attimo delle considerazioni su questa parabola. Mi interessano due cose che voi capiate fondamentalmente. La prima è capire quali sono i punti in cui la parabola incontra l'asse x. La seconda è capire dove la parabola è positiva e dove è negativa. Per quanto riguarda la prima richiesta, parleremo di zeri della funzione. Cosa sono gli zeri, abbiamo detto? Sono i punti in cui la parabola incontra l'asse x. Nel nostro caso, come potete vedere, sono due. Graficamente li abbiamo trovati e sono ovviamente il punto x uguale 0 e x uguale 4. Perché mi interessano questi punti? Perché vorrei che capiste una cosa semplice ma fondamentale. Quei due punti non sono nient'altro che la soluzione dell'equazione x²-4x uguale a 0. Che cosa ho fatto quindi? Non ho fatto nient'altro che prendere la mia funzione di partenza e porre y uguale 0. Le soluzioni di questa equazione, infatti, raccogliendo perché è un'equazione spuria, non sono nient'altro che x uguale 0 e x uguale 4. Se voglio quindi trovare subito i punti di intersezione della mia parabola con l'asse delle x, mi basta prendere la funzione, eguagliarla a 0 e risolvere l'equazione di secondo grado. Ecco spiegata la relazione che esiste tra la funzione quadratica e l'equazione di secondo grado. Da questo che cosa ne vinciamo, ragazzi? Che il numero di zeri, cioè il numero di intersezioni che la parabola ha con l'asse delle x, dipende ovviamente dal delta dell'equazione di secondo grado che ho quando pongo la funzione uguale a 0. In particolare, quindi, come ben so, quando delta è maggiore di 0, avrò due soluzioni, ovvero due zeri, cioè due punti di intersezione della parabola con l'asse delle x. E quindi avrò una parabola disegnata come questa che ho appena fatto, cioè una parabola che incontra la funzione in due punti. Quando delta è uguale a 0, che cosa ottengo? Ottengo un solo 0. Perché? Perché la mia soluzione sarà una, ma doppia. Quindi otterrò un solo valore che sarà l'unico punto di intersezione con l'asse delle x che avrà molteplicità a 2. Quindi che cosa ottengo sostanzialmente? Una parabola che toccherà l'asse delle x in un punto solo. Se invece il delta è minore di 0, che cosa ottengo? Nessuno 0, cioè 0, 0. Cioè nessun punto di intersezione della parabola con l'asse delle x. E come potrà essere disegnata una parabola di questo tipo? In questo modo. Quindi potrà essere disegnata, ma non dovrà toccare l'asse delle x. La seconda cosa che mi interessa è molto importante ed è fondamentale per capire come risolvere le disequazioni di secondo grado, che, come vi ripeto, sono l'argomento della successiva playlist. Cosa vuol dire che voglio sapere quando la funzione è positiva e quando è negativa? Beh, la funzione sarà positiva quando si troverà al di sopra dell'asse delle x, ovvero quando la y sarà maggiore di 0, mentre sarà negativa quando si trova al di sotto, ovvero quando la y è minore di 0. Se vado ad analizzare il grafico, quando è che la nostra funzione sarà positiva? Sarà positiva per questo ramo qui. Vedete che si trova al di sopra dell'asse delle x e in questo tratto qui, che si trova anche esso al di sopra dell'asse delle x. A questo tratto corrispondono, ovviamente, tutti i valori della x più piccoli di 0 e tutti i valori della x più grandi di 4. Quindi la nostra funzione sarà positiva quando x è minore di 0 oppure quando x è maggiore di 4. Quando è che, invece, la nostra funzione sarà negativa? Sarà negativa in questa zona qui, vedete, perché in questa zona starà al di sotto dell'asse delle x e questa zona, ovviamente, corrisponde alla zona intermedia tra 0 e 4, quindi sarà negativa per x compreso tra 0 e 4. Questo discorso, ovviamente, si ribalta qualora io avessi una parabola che è disegnata, per esempio, in questo modo. Quindi quando sarà positiva? Sarà positiva nella zona intermedia per x compreso, per esempio, tra il primo 0 e il secondo 0 e sarà negativa per x minore del primo 0 e maggiore del secondo 0. Per capire questi concetti andiamo a vedere qualche esempio in cui disegneremo la nostra parabola e vedremo quali sono gli zeri e dove è positiva e negativa. Benissimo, ragazzi, proviamo a fare il disegno di questa parabola qui, procedendo esattamente nello stesso modo in cui avevamo proceduto prima. Quindi di questa parabola ci troviamo subito il valore di a, che è meno 2, il valore di b, che è 4, e il valore di c, che è meno 3. Il delta farà b quadro, che è 16, meno 4 per meno 2 per meno 3, che fa meno 24, quindi uguale a meno 8. Ora, osservate, il fatto che delta sia negativo ci dice già che la parabola è una parabola che non ha intersezioni con l'asse x, quindi non deve toccare in nessun modo l'asse delle ascisse. Andiamo quindi a calcolarci il vertice. La x del vertice sarà meno b fratto 2a, quindi a quanto sarà uguale? Sarà uguale a meno 4 fratto meno 4, cioè sarà uguale a 1. La y del vertice, se la andiamo a calcolare come meno delta fratto 4a, verrà meno meno 8 fratto meno 8, ovvero meno 1. Andiamo quindi a piazzare le coordinate del vertice sul piano cartesiano e otteniamo questo punto qua, essendo 1 meno 1. A questo punto tracciamo l'asse di simmetria, che sarà quindi una retta verticale passante per il vertice. Per finire troviamoci dei punti della parabola. Guardate che ne bastano due. Prendiamo per esempio il punto 0, se prendo 0 la y viene meno 3, e poi se prendo il valore meno 1, per esempio, la y verrà meno 9. Andiamo a mettere quindi i punti che ho trovato nel grafico, quindi 0 meno 3 sta sull'asse delle y, meno 1 meno 9, vedete sta qui in basso, perché insomma meno 9 va un po' giù. Prendo i punti simmetrici rispetto all'asse di simmetria, che saranno questo e ovviamente questo da quest'altra parte, e dopodiché li unisco a formare la mia parabola. Perfetto. Oddio, non proprio perfetta, è un po' storta, ma non importa. Questa è la nostra parabola che è rivolta con la concavità verso il basso. C'è un modo per sapere prima se la parabola deve andare verso il basso o verso l'alto, cioè se rido o piange? Ebbene, sì, mi basta guardare il valore davanti a x alla seconda. Se il valore davanti a x alla seconda, cioè a, è minore di 0, allora la parabola piange, come in questo caso, quindi ha la concavità rivolta verso il basso. Se invece a è maggiore di 0, ha la concavità rivolta verso l'alto. Ed è una parabola come quella che abbiamo disegnato nel precedente esercizio. Benone, ragazzi, adesso vedete che cosa voglio sapere. Voglio sapere quali sono gli zeri della nostra funzione. Eh, ma è molto facile questa cosa. Perché? Perché io guardo la parabola e vedo che quella parabola non incontra l'asse delle x, quindi gli zeri non ci sono. Come posso fare a verificare matematicamente questa cosa? Mi basta prendere la mia funzione meno 2x alla seconda più 4x meno y e invece che mettere uguale a y, mettere uguale a 0. A questo punto, con la formula risolutiva, che cosa trovo? Meno 4 più o meno la radice di che cosa? Di meno 8, che l'ho già calcolato prima perché è il delta, fratto 4. Siccome il delta è negativo, questa equazione è ovviamente impossibile. Se l'equazione è impossibile, vuol dire semplicemente che la parabola non toccherà l'asse delle x, perché non ci sono punti di intersezione con l'asse delle ascisse. Per finire, ragazzi, voglio sapere quando quella parabola è positiva o negativa. Cioè, quando è che quella parabola sta sopra l'asse delle x? E ragionateci, quella parabola non sta mai sopra l'asse delle x. Infatti, lei sarà sempre negativa, cioè per ogni x appartenente reali. E questo perché lei sarà disegnata, come abbiamo fatto, sempre sotto l'asse delle x, quindi nel semipiano delle y negative. Benissimo, ragazzi, anche per oggi la lezione è conclusa. Vi ho dato un metodo, credo abbastanza semplice, per fare il disegno di qualsiasi funzione quadratica per i capi di davanti. Mi raccomando, non la sottovalutate perché sarà veramente importantissima sapere come è fatta la parabola quando faremo le diseguazioni di secondo grado. Anche per oggi abbiamo concluso, grazie per avermi seguito e alla prossima. Se pensi che i contenuti del mio canale possano farti uscire dalle parodi della tristezza, iscriviti. Oppure condividi se hai degli amici che sono desiderosi di una sufficienza. Lascia invece un commento se vuoi farmi trattare degli argomenti o vuoi suggerirmi degli esercizi da risolvere. Grazie, alla prossima lezione da Diego ti spiego.